Il teramo più bello dell'anno nella partita più importante. I biancorossi vincono il big match dell'undicesima giornata con la Jesina e volano in classifica mettendo in atto la prima mini fuga del campionato. E pensare che Cifaldi è stato costretto a mettere in campo un 11 titolare ampiamente rimaneggiato, colpa delle assenze forzate di Deustacchio, Russo, Bolzan, Serau e Raimondo. E allora ecco Lennart e Curri, difensori esterni, con la cioppo al fianco di Scartozzi e Costa Ferreira e Borrelli esterni alti. Ianni fa il centrale difensivo in coppia con Gattari. L'appuntamento è comunque di quelli che non possono essere mancati e il teramo questa volta non lo manca. La Jesina deve fare i conti anch'essa con assenze pesanti. Fenucci mette i suoi con un 4-1-4-1 che prevede Sebastianelli metodista davanti alla difesa e Francioni punta centrale. L'avvio del teramo è di quelli importanti, in linea con la delicatezza della gara. Dopo 12 minuti Borrelli calcia una punizione indirizzando su Arcamone che viene chiuso di testa in angolo. E il prorromo del gol che arriva dopo 4 minuti, Lennart Scodella in mezzo dalla destra, Borrelli colpisce di testa anticipando un avversario e Niosi non ci arriva. Il vantaggio fa tirare il fiato ai biancorossi, cala un pizzico la concentrazione e Gattari la sta per combinare grossa al 23esimo sfiorando il clamoroso autogol. Passato il pericolo il teramo riprende a menare le danze. Al 34esimo una punizione di Arcamone manda la palla a sfiorare l'incrocio dei pali. Due minuti e Orta prova ad andare via di forza, Bugari ci riesce in parte ma Niosi riesce a metterci una pezza. Sul finire di tempo Rossi chiama all'intervento difficile Farò che si salva in angolo. In avvio di riprese il teramo è micidiale. Dopo tre minuti Costa Ferreira e Arcamone trovano il modo di sbagliare un gol incredibile con il portoghese che serve l'argentino e questi calcia sul palo davanti a una porta sguarnitissima. Il gol mangiato farebbe pensare a un gol subito, invece il teramo subito dopo trova il gol del raddoppio. Bugari stende Orta che si preparava a ricevere un cross dalla destra, calcio di rigore per il teramo che Arcamone realizza di forza e precisione. La Iesina va in barca e il teramo prova ad approfittarne. Il terzo gol sembrerebbe cosa fatta a quarto d'ora se Orta tutto solo davanti a Niosi non trovasse nulla di meglio da fare che complicarsi la vita e farsi beffare dal portiere Iesino. Nonostante gli errori i bianco-rossi non mollano la presa, al ventunesimo Costa Ferreira si libera bene al tiro ma conclude male. Al trentacinquesimo si rivede la Iesina, su calcio d'angolo Focante impatta di testa con colpevole libertà ma sbaglia la mira. Al trentanovesimo Costa Ferreira, sempre lui, si libera, supera il portiere e va giù per l'arbitro e simulazione, cartellino giallo al portoghese. Quando nessuno ci crede più la Iesina riapre la gara e il quarantaduesimo quando su un calcio di punizione di strappini Farò sbaglia clamorosamente il tempo dell'uscita e Focante di testa mette in rete. Gli ultimi minuti sono di grande sofferenza per i bianco-rossi ma i marchigiani non riescono a produrre nulla di veramente pericoloso. Finisce con l'urlo liberatorio del comunale. La fuga del teramo è servita. Abbiamo interpretato bene la partita. Il secondo tempo la potevamo chiudere con un risultato più rotondo. Forse mi dispiace che alla fine abbiamo sofferto un po' tutti per quel gol preso che chiaramente ha riaperto un po' per loro la partita. Però devo dire grosso spirito, faccio i complimenti ai più giovani, a Curri e a Lennart che si sono applicati in un ruolo magari non proprio loro e l'hanno fatto bene senza tralasciare gli altri. Penso che abbiamo fatto una buona partita di grossa applicazione. Abbiamo colpito il momento giusto e il risultato poteva essere più rotondo secondo me. Più teramo che Iesina anche se avevamo iniziato benino. Però c'avevamo talmente tante assenze, talmente tanti giocatori che hanno iniziato la partita, che avevano giocato poco che speravo di non prendere gol sinceramente nel primo tempo o comunque in quel tratto di frazione perché dopo si sarebbe messa più dura. Purtroppo abbiamo preso un gol che potevamo evitare perché fino a lì non è che avessimo subito chissà cosa. Poi è normale che quando vai sotto ti sbilanci, provi a recuperare, lasci spazio, lasci campo. E il Teramo sicuramente da un punto di vista di gioco ci è stato superiore.